Andiamo alle immagini che hai portato, che raccontano di cieli con nubi particolari. Esatto, perché già nella puntata di ieri, con foto scattate nella serata di lunedì, abbiamo visto come al passaggio di un fronte temporalesco, l'arrivo di aria più asciutta, quando ancora però ci sono quel che resta delle nubi temporalesche che affoldano il cielo, regalano degli scorci particolarmente suggestivi, colori, saturazione proprio dei colori e contrasti davvero belli da fotografare. 24 ore prima, quindi nella serata di domenica, qui lo vediamo col mosaico di rada della protezione civile, il fronte temporalesco era ancora sul nord Italia. Vedete che i fenomeni più intensi, che secondo quella scala che è in basso a destra, sono segnalati dai pixel arancioni e rossi, mentre quelli celesti e verdi sono le piogge più deboli, erano, vedete, tra le medie occidentali e la bassa Lombarda, dove si stavano progressivamente spostando dal Cremonese verso il Mantovano e poi da qui, nelle ore a seguire, quindi la serata di domenica. Questa è un'immagine delle 18.30, si sono spostate verso la parte centro-orientale della pianura padana. Andiamo a vedere allora, proprio dal Cremonese, quindi più o meno da qua, quali foto in quel momento, al tramonto di domenica, sono state scattate. La prima è di Luca Ronca e sopra il corso del Po ci mostra questo cielo cinematografico. Quei rigonfiamenti nuvolosi che si protendono verso il basso, dalla base della nube temporalesca stessa, sotto forma di sacche o di mammelle, e infatti vanno sotto il nome nella nomenclatura internazionale di Mammatus, vediamo anche la foto successiva che ce le presenta, che è di Massimo Guarneri, sono l'indizio di atmosfera molto instabile, quindi temporali anche forti, ma tipicamente si avvistano nella fase finale del temporale, prima del dissolvimento, o comunque quando la parte attiva del temporale, quindi quella che ha luogo alle precipitazioni, i rovesci più intensi, è lontana, a distanze di diversi chilometri. Sono nubi, come sappiamo, molto estese, questa altra foto, sempre quella zona di Eva Maria Roman. Mentre qui siamo nella parte periferica del temporale, dove appunto l'irruzione, veramente, nei bassi strati di aria fredda e asciutta, fa sì che i cristalli di ghiaccio che precipitano per gravità dalla base della nube trovano appunto aria molto asciutta, quindi sublimano rapidamente, tornano in uno stato di vapore, l'alternanza tra parte ascensionale e parte discendente forma questa simmetria particolare. Le altre due foto sono di Monica Vacchelli, sempre dalla pianura del Cremonese, qui siamo proprio ormai nell'allontanamento del temporale, guardate chiaramente quando queste nubi sono illuminate dal basso, cioè il sole radente quasi al tramonto, chiaramente prendono veramente un aspetto cinematografico, chiaramente in queste situazioni, ora con l'aria gonfia di gocce di pioggia, almeno in lontananza, basta guardare nella direzione opposta al sole, appunto è diametralmente opposto, ed ecco che compare l'arcobaleno, che più il sole è basso sull'orizzonte alle nostre spalle, più si allarga, cioè va verso la semicirconferenza perfetta, che in questo caso era praticamente raggiunta, e sono proprio momenti in cui chiaramente la dominante rossa riguarda anche l'arcobaleno, cioè c'è sempre la dispersione fra i vari colori dell'iride, però c'è una dominante, vedete rossastra esattamente come il resto dell'aria. Per tutte queste foto ringrazio anche la pagina Facebook Tornado in Italia, che oltre a pubblicare sempre un report ormai quasi decennale sugli eventi tornatici catalogati per località, intensità, eccetera, pubblica sempre in continuazione foto di fenomeni meteorologici a partire proprio da quelli temporaleschi che regalano sempre degli scorci veramente belli. Grazie a tutti i fotografi e le fotografie che ci forniscono queste immagini da commentare in trasmissione con te.